Centralizzare l'attenzione sui giovani e sulla disciplina del calcio a 5 è l'obiettivo dell'atletico Rocca Scalegna C5 nel corso dei quattro giorni aperti ai ragazzi nati fra il 2005 e il 2007 che si stanno tenendo al centro sportivo Caduna di Piane d'Archi, la consolidata residenza sportiva dei Biancoazzurri. Ai nostri microfoni lo staff tecnico ha richiamato in particolar modo il territorio confinante alla partecipazione come ha esplicato in primis Marcello Gian Giordano, allenatore della categoria femminile ecotecnico del settore giovanile che aggiunge stiamo crescendo anno dopo anno con sacrificio e dedizione invito tutti i ragazzi che magari d'estate si cimentano nei tornei di calcetto a partecipare ai prossimi Open Day in programma lunedì 2 e giovedì 5 settembre e a sposare la famiglia Rocca Scalegna aggiunge Gian Giordano qui troveranno un ambiente unito a tutti i livelli oltre che l'aspetto calcistico, dice il tecnico vogliamo crescere la capacità aggregativa dei ragazzi formandoli per la società di tutti i giorni posso solo ringraziare tutti i componenti della polisportiva per l'impegno profuso alla realizzazione di questi eventi Open Day in quel della caduna a Piane d'Archi per l'Atletico Rocca Scalegna calcio a 5 dedicato alle giovanili nella fattispecie Under 17 e Under 19 con noi c'è Lorenzo Carnevale una componente dello staff tecnico del nuovo Atletico Rocca Scalegna che si appresta a partire con una nuova stagione quali sono le ambizioni, gli obiettivi al via Lorenzo le finalità di questo Open Day che avete ben strutturato oggi e che non finirà ovviamente nella data odierna l'obiettivo è molto chiaro, si parla comunque di settori giovanili l'obiettivo è chiaro, far arrivare al più possibile ai ragazzi un messaggio ben chiaro che lo sport è importante, lo sport è importante fin dalle prime fasi, fin dalle piccole età e sinceramente noi come Atletico Rocca Scalegna vogliamo creare qualcosa che comunque rimanga nei ragazzi come percorso formativo oltre che di competenze a livello calcistico quindi che non vada solo sulla tecnica la tattica e la fisicità del ragazzo ma a livello anche di spogliatoio creare qualcosa che rimanga nei ragazzi che comunque li tengano attaccati alla società e allo sport soprattutto l'obiettivo ovviamente è avendo anche una prima squadra e far sfociare questi ragazzi nelle categorie superiori quindi farli esordire anche in prima squadra partendo anche dal basso comunque perché la maggior parte dei ragazzi a parer mio si bruciano perché vogliono subito entrare nel mondo dei grandi senza essere pronti avere la possibilità di vedere che cos'è lo spogliatoio che cosa significa comportarsi, avere contatto con gli altri ragazzi, i compagni di squadra e soprattutto senza sapere che per arrivare a determinati obiettivi c'è bisogno di sacrificio e il sacrificio non è una cosa scontata soprattutto al mondo d'oggi